Musica Essenzialmente accoglienza Ma va anche aggiunto che questa è accoglienza dell'ignoto anche. Una madre accoglie il suo bambino nel grembo e non sa chi egli diventerà. Non conosce il profilo di questa persona. Eppure la gioia più profonda che lei prova è quella di accoglierlo. Così che anche la misericordia trova il suo contenuto essenziale nella accoglienza dell'altro, della realtà, a prescindere. A prescindere se questa realtà e questo altro siano in sé positivi o negativi, siano soprattutto in relazione a me positivi o negativi. Io accolgo l'altro perché egli esiste e ha addirittura diritto ad essere accolto da me. La profondità della misericordia allora ci porta molto vicini al mistero di Dio. Quasi che ogni volta noi accogliamo, abbiamo misericordia, diventiamo davvero immagine di Dio che è sempre all'opera e che continua a generare e ad accogliere. La seconda parola della vostra riflessione in questi giorni è la parola carità. La carità è un'altra dimensione dell'amore, non coincide con l'amore. La carità ne è una espressione, almeno per me. Perché mentre la parola misericordia implica lo stato di accoglienza dell'altro, la parola carità implica soprattutto il dono per l'altro. Ama chi è capace di dare. La carità è il coraggio di dire l'altro conta per me al punto tale che chiede a me non solo il dono delle cose, il dono delle emozioni, ma chiede a me il dono della vita. a immagine del padre che ha tanto amato il mondo e in italiano dopo come si dice, professore? Che ha dato no, che ha dato il suo figlio. L'amore più grande di Dio ma scusi, lei all'esame poi la boccerò, eh? L'amore più grande di Dio è stato quello di dare e ha dato l'unico figlio. Gli fa ecco Gesù quando dice che l'amore più grande è quello di dare la propria vita. Vedete la carità, allora è proprio sinonimo di questo stato di donazione a cui è chiamato il discepolo del Signore il figlio di Dio. E ci sono momenti in cui questa parola donare diventa talmente espressione di carità che tante volte la nostra carità si manifesta proprio nel piccolo o nel grande dono. dalla carità che facciamo a quello che incontriamo sulla strada e che chiede la lemosina alla grande carità del martirio di coloro che per essere fedeli al Signore danno la loro vita. Siccome non ho una conferenza di mezz'ora mi hanno detto cinque minuti e vengo alla terza parola la verità. anche la verità è espressione dell'amore perché la parola verità ha due elementi che la costituiscono. Il primo è quello di illuminare illuminare. L'amore nelle sue espressioni di misericordia e di carità ha bisogno della luce della verità. Io dico ogni tanto ai miei colleghi amici che nella analisi delle cose dobbiamo essere spietati. non possiamo far finta che il bianco sia nero o che il nero sia giallo. Non possiamo confondere l'accoglienza con l'indifferenza intellettuale che non vuole affrontare la domanda l'inquietudine. La verità è il criterio con il quale noi trasformiamo la misericordia in autentica realtà senza coprirci dietro bonismi o non so che cosa indifferenza a volte perché la non luce della verità sulla realtà è spesso sinonimo di indifferenza della realtà stessa. E poi la verità è la luce che illumina la nostra conoscenza e quindi ogni nostra decisione anche nel dono della carità che non sia una decisione illuminata dalla verità non è carità può essere denominata con qualunque altro termine ma se non è la carità non è conoscenza dell'altro non è giudizio critico sulla situazione non è carità e frequentavo un convento di suore sacramentine che erano vicini alla casa dove noi avevamo il noviziato lì c'era una vecchia suora molto brava madre che rubina si chiamava immaginate un po' e prima di andare in noviziato io andai a dirle madre preghi per me lei mi guardò e non mi disse niente allora io le ripetei guardi che vado in noviziato e lei deve pregare per me e che cosa vuoi che io chieda al signore per te mi rispose lei ma prima di tutto che il maestro non sia troppo cattivo eh questo era importante secondo che alla fine del noviziato non mi mandino via e terzo anche che io possa diventare un po' più buono e lei mi disse io pregherò per te questo puoi essere certo ma non chiederò nessuna delle cose che tu mi hai chiesto io chiederò per te che Dio ti maturi nell'amore hai capito io conservo ancora il fogliettino che lei mi lasciò dopo quell'incontro ormai già tutto giallo scritto a mano da questa suora anziana e ogni tanto mi chiedo proprio questo la misericordia la carità la verità mi hanno portato a una libertà che mi ha fatto maturare nell'amore è quello che io auguro a ciascuno di voi in questo convegno che i giorni di riflessione quello che ascolterete vi faccia essere misericordiosi vi faccia essere caritatevoli capaci di amare vi faccia avere il coraggio della verità perché insieme possiamo maturare nell'amore buon lavoro e arrivederci alla prossima grazie a tutti grazie a tutti That kind of intention, your desire for us to mature in love Is such a wonderful gift that you've opened this congress in And we're very, very grateful I would invite Henry Capello, the president of CIVI To respond and to bring greetings on behalf of Caritas and Veritate Thank you, Jeff First I would like to, on my part And also on behalf of the board of directors of Caritas and Veritate International and that of USA I would like to welcome all of you to the, again, to the 5th International Forum Under the patronage and with the collaboration of the respected Pontifical University Urbaniana Of which we've just heard a welcome from a dear friend of mine And also a distinguished professor and directorio magnifico Of the Urbaniana, Professor Alberto Trevisol Whom I would like to thank When God is described in the Bible as being both merciful and just It can seem like an identity crisis However, in his comments to the pilgrims gathered in St. Peter's Square For his weekly general audience Pope Francis, on February the 3rd, said On February the 3rd, he said, quote Justice and mercy Rather than contradicting each other The two actually go hand in hand Sacred scripture presents us with God as infinite mercy But also as perfect justice How are the two, the Pope questions How are the two things reconciled? How can the reality of mercy be articulated with the need for justice? Pope Francis continues While these two characteristics can seem like opposite In reality, it's not like this Because it's precisely the mercy of God That brings the fulfillment of true justice This is one of the topics That we shall be investigating further in this forum The Pope, in his message entitled Communication and Mercy A Fruitful Encounter Published only a few days ago Ahead of the World Day of Social Communication Coming May the 8th He said Our primary task Is to uphold the truth With love And the only words spoken with love And accompanied by meekness and mercy Can touch our sinful hearts Unquote Charity Caritas Christi Is the love of God expressed And is an expression of God's mercy For his people And for us It is a logical consequence And that after we have dedicated a forum last year On the importance Of the encounter with God La Theologia dell'Encontro We are today having a forum on mercy Charity And justice The foundation of true charity Is the encounter with one Who out of his perfect love Has given all to us And has given to all men of goodwill Life forever The greatest act of charity in history The culture of encounter Is foundation for Caritas in Veritat International As a confederation A confederation of 38 major international organizations worldwide Today present in about 84 nations With more than 156,000 volunteers And no less than 800 leaders Working in several continents It is the mission of Caritas in Veritat International To bring partners Organizations Communities NGOs And agencies To work professionally together To achieve What any one organization alone Cannot achieve To support each other in ventures In bringing aid To the poorest of the poor And to collaborate with communities With academic institutions And with entities Who are actively involved In bringing charity And true compassion Express the mercy To all men of goodwill It is our vision To see transformation of peoples And of communities worldwide I conclude this short introduction With a quote from Pope Benedict XVI In his What was the last Sunday of the Divine Mercy That he participated in Quote Mercy is in reality The core of the Gospel message It is the name of God Himself The face with which He reveals Himself In the Old Testament And fully in Jesus Christ The incarnation of creative And redemptive love Pope Benedict continues Outside the mercy of God There is no other source of hope For human beings Unquote At this point I'd like to thank To take this opportunity To acknowledge The presence of the members Of the Board of Caritas and Veritat International And that of CV USA Particularly again The Chairman Mr. Rickandrine For his wisdom and support Present also The founding directors First some of the founding directors Of Caritas and Veritate Leaders of movements Organizations and communities Part of the Caritas and Veritate Confederation Distinguished speakers Particularly from the Pontifical University of Albaniana Whom will be Helping us to go even deeper Into different subjects I would like also to thank The founder and the president and staff Who makes this possible For the recording and streaming Live streaming Worldwide Our proudness in Brazil And I would like also to thank For leading us in prayer And in worship every day Finally again My thanks To the Reverend Professor Trevisol For his encouragement Without whom This would not have been possible And to you participants Thank you very much For your presence And I hope that this Two days together Will be fruitful to all Thank you Thank you Thank you